musica ragazzi sto facendo il video che avete da commentare? mamma! avete qualcosa da commentare? a dire che sia il video a dire che sia il video ed è un video a dire che sia il video o no a dire che sia il video che sia il video Ancora, Ancora, Ancora! Vieni a me, vieni a me, vieni a me, vieni a me. Vieni a me, vieni a me, vieni a me, vieni a me. Vieni a me, vieni a me, vieni a me, vieni a me. Vieni a me, vieni a me, vieni a me. Vieni a me, vieni a me.